Schifo! Dove sta il foglietto? Ho perso il foglietto. Ah, sta qua! No, ragazzi, no. Lo metto più al centro? Sì, però. Secondo me... Che schifo, schifo! Tolgo il foglietto e godetevi il risultato, che sarà bellissimo, speriamo! Speriamo! Guarda! Fantastico! Cioè, è bellissimo, perché sono proprio si scambiano di posto. Perché? L'olio è meno denso dell'acqua. L'olio e l'acqua non sono miscibili, cioè sono liquidi non miscibili. Quindi c'è proprio questo scambio di posto, guardate, che sta ancora avvenendo.